Questa settimana su EINNN, rapinatori armati sparano a due guardie giurate di una scuola alimentare ventista nello Zimbabwe. Una guardia è morta. Terremoto in centro Italia. Dopo le recenti scosse e le abbondanti nevicate, ADRA continua gli interventi di aiuto diretto alle famiglie colpite dal sisma. I volontari ventisti aiutano gli abitanti dell'isola meridionale delle Filippine evacuati a causa di un'alluvione. Questo e altro ancora a fra poco. Benvenuti su EINNN, un servizio della Chiesa Cristiana Ventista Mondiale in collaborazione con il Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana. Grazie per aver scelto di seguirci anche questa settimana. La scorsa settimana alcuni ladri hanno sparato a due guardie di sicurezza di una scuola alimentare ventista in Zimbabwe durante la vigilanza notturna. I quattro rapinatori erano stati sorpresi mentre rubavano e hanno reagito aprendo il fuoco e uccidendo una delle guardie. Il personale, gli insegnanti, gli studenti, i genitori e l'intera comunità dove si trova la scuola sono stati scioccati per questo attacco. Secondo le indagini, i malviventi erano riusciti a rubare diversi oggetti, tra cui 200 dollari, e due computer portatili prima di essere scoperti. Uno dei ladri è stato arrestato dalla polizia che ha recuperato i due computer. La guardia è rimasta ferita, è stata dimessa dall'ospedale e ora è in covalescenza a casa. Andiamo ora in Italia. Dopo le quattro scosse del 18 gennaio e le abbondanti nevicate, Adria Italia continua l'assistenza diretta alle famiglie terremutate nell'Italia centrale. Abbiamo tutti ancora vivide le immagini dell'hotel Rigopiano in Abruzzo e del tragico bilancio di morti. È una sciagura immane che si è aggiunta alla situazione critica degli abitanti delle zone terremutate, alcuni rimasti per diversi giorni isolati dalla neve e senza energia elettrica. Adria Italia ha continuato gli interventi di aiuto alle famiglie. Nei mesi scorsi i volontari hanno visitato Amatrice, Norcia, Cascia, Sky e altre piccole frazioni, dove hanno portato generi alimentari, prodotti per l'igiene, stufe, torce, lavatrici e asciugatrici. Durante il periodo di mal tempo, appena la viabilità lo ha consentito, sono stati consegnati pellet per le stufe, biancheria intima invernale, pale per la neve, scarpe e mangime per alcuni allevamenti. L'Agenzia Umanitaria gestisce un magazzino di smistamento di generi alimentari presso la Chiesa Ventista di Rieti. ANN sostiene la raccolta fondi di Adra per i terremotati. È possibile fare una donazione sul sito www.adraitalia.org Andiamo ora nelle Filippine, dove sull'isola all'estremo sud del paese si è riversata, in un solo giorno, la quantità di pioggia che di solito cade in un mese, con conseguente inondazione. Circa 7.000 persone sono state tratte in salvo dalle loro case e si trovano attualmente nei centri di evacuazione. Almeno 7 persone hanno perso la vita. Adra e i membri della Chiesa Ventista si sono subito mobilitati per assistere agli alluvionati. Hanno distribuito anche utensili da cucina e altri beni di prima necessità a 600 famiglie che vivono in alloggi temporanei. La Chiesa Ventista si è congratulata con il neoeletto presidente della Repubblica del Ghana, che ha prestato giuramento all'inizio di gennaio. Il presidente conosce la Chiesa da molti anni, ha infatti frequentato i servizi religiosi e afferma di amare la musica avventista. Per questo un gruppo avventista ha cantato durante la cerimonia speciale che si è svolta il giorno seguente all'insediamento. Ma il presidente conosce la Chiesa anche tramite sua figlia, laureata nell'Università Avventista di Accra, la capitale del Ghana. Dopo le elezioni, la denominazione ha inviato un messaggio al neopresidente in cui dice «La Chiesa ventista prega per lei e per il suo governo, la sostiene e la incoraggia nella grande responsabilità di amministrare la nazione». Nei numerosi anni in cui ha ricoperto incarichi pubblici, il neopresidente ha mantenuto forti legami con la Chiesa e ha promosso scuole, ospedali e attività umanitarie della denominazione. La battaglia di Axel Ridge è stato candidato nelle categorie miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista, miglior montaggio, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. Il film è basato sulla storia vera di Desmond Doss, che durante la Seconda Guerra Mondiale ha affrontato numerosi ostacoli pur di rimanere saldamente aggrappato alle sue convinzioni e al comandamento non uccidere. Si è quindi rifiutato di portare le armi, ha servito nell'esecito come medico non combattente ed è riuscito a salvare la vita di 75 commilitoni mentre infuriava una delle più sanguinose battaglie. Il film è nelle sali italiane dal 2 febbraio e offre l'occasione di far conoscere la Chiesa ventista a tante persone. L'amministratore delegato dell'ospedale avventista di Sydney è stata nominata Donna dell'Anno dal governo locale. Il premio è un riconoscimento alle donne che con il loro lavoro migliorano la comunità e l'impresa in cui operano. La consegna è avvenuta durante uno speciale ricevimento presso l'ospedale. Alla cerimonia erano presenti anche la ministra per le donne e un deputato del Parlamento. Oltre ai suoi numerosi successi, l'amministratrice avventista è riuscita a raccogliere 10 milioni di dollari per l'ospedale nel 2016. Accettando il premio ha detto «Non riesco a descrivere l'immenso piacere nel vedere che bastano piccole cose per cambiare la vita a una persona. Per me è un onore poter servire gli altri». Questo premio la pone tra le possibili candidate a Donna dell'Anno a livello regionale. Ora una breve pausa. Ci rivediamo tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ben tornati. Riprendiamo il nostro giornale con altre notizie della Chiesa Globale. Gli avventisti in Italia e in Europa sono stati scossi alcuni giorni fa per la morte di 16 studenti ungheresi in un incidente del Pullman su cui viaggiavano. Il bus ha preso fuoco dopo essersi schiantato contro un pilone dell'autostrada A4 nei pressi dello svincolo Verona Est. 54 le persone a bordo, tra studenti di liceo, insegnanti e due autisti. Numerosi sono stati feriti. Oltre a esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime, il presidente dell'Unione Adventista Italiana ha rivolto un pensiero ai sopravvissuti. Ha detto, preghiamo che il Signore possa confortare e consolare con il suo amore quanti hanno perso un loro caro, che guarisca i feriti e lenisca la sofferenza psicologica dei superstiti, dopo la spaventosa esperienza vissuta. Anche i dirigenti della regione inter-europea pregano per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Dal nord al sud dell'Italia, Adra e i membri di chiesa assistono i senza tetto in quei si rigidi mesi invernali. L'operazione freddo è iniziata già da diverse settimane in numerose città. Un gruppo della chiesa Adventista di Bovisio ha portato coperte, sciarpe, guanti e cappelli ai senza fissa dimora che dormono nel centro di Milano. A Torino, sabato 21 gennaio, 15 volontari di Adra hanno distribuito generi di conforto ai senza tetto che affollavano gli eleganti portici del centro. Nel freddo pungente della sera hanno distribuito bevande calde, pacchi di alimenti, indumenti pesanti, sorrisi e parole amichevoli. In cambio, le persone soccorse hanno ringraziato sorpresi. A Napoli, i volontari di Adra e della comunità Adventista ogni pomeriggio si incontrano nei locali della chiesa per cucinare, raccogliere coperte e indumenti e poi uscire a distribuirle alle persone che vivono per la strada della città. Una responsabile ha detto i volontari sono riusciti a instaurare un dialogo con loro. Anche di questo hanno bisogno, oltre alle coperte e a un pasto caldo. A Catania, i giovani avventisti con il sostegno di Adra si prendono cura di 30 senza tetto. Tutte lunedì distribuiscono pasti, bevandi, generi alimentari e non solo. Alcune persone hanno una casa, ma la pensione bassissima permette loro di pagare solo le spese e poi non hanno i soldi per mangiare. I volontari avventisti raccolgono anche indumenti e scarpe che vengono confezionati in anticipo in buste con su scritto il nome della persona a cui sono destinate. Con gli assistiti si è creato un rapporto di amicizia. I giovani li hanno invitati tutti a una cena organizzata nella Chiesa Ventista a gennaio e a ognuno hanno regalato una coperta nuova e un piccolo Vangelo. Adra Ragusa ha accettato l'invito dell'Associazione Italiana Cellachia della Sicilia e ha partecipato alla manifestazione Ragusa Centro. Sotto un grande tendone in piazza, i volontari di Adra, Ike e la Chiesa Ventista di Ragusa hanno dato vita a un laboratorio creativo per i bambini. Gli artisti in erba hanno creato piccoli capolavori utilizzando frutta e verdura. In questo modo sono stati stimolati a degustare cibi sani e nutrienti. Durante la serata sono state distribuite riviste di vita e salute e brochure di Adra per far conoscere le realtà associative presenti sul territorio. Questa era l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Vi aspettiamo la prossima settimana con nuove notizie dalla Chiesa Ventista Mondiale e da quella italiana. Nel frattempo seguiteci anche su Facebook e Twitter. Prima di lasciarci vi dedichiamo un messaggio spirituale che questa settimana si trova nel libro di Matteo, al capitolo 7, versetti 7 e 8. Il testo dice Ora è proprio tutto e ricordate che ci trovate su news.aventisti.it con notizie sempre aggiornate. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Arrivederci. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica.